ciao amici valo investor in questo video analizzeremo la trimestrale di un'azienda che mi avete chiesto in molti e che da inizio anno ha visto il suo prezzo scendere del 40 per cento e sto parlando di alphabet e anche dopo quest'ultima trimestrale di qualche giorno fa l'azione ha continuato a scendere c'è troppo pessimismo su alphabet o effettivamente i fondamentali sono in grave peggioramento e soprattutto qual è il suo valore intrinseco lo scopriamo in questo video iniziamo a vedere subito com'è andata questa trimestrale innanzitutto ha deluso gli analisti sia per quando riguarda le revenue che i profitti e vabbè ci dispiace per gli analisti ma andiamo a vedere i numeri più nel dettaglio e vi anticipo che secondo me nella trimestrale di alphabet ci sono alcune analogie con quella di meta che se non avete visto vi consiglio di andarla a vedere le revenue sono cresciute solo del 6 per cento ma c'è da dire una cosa che è un 6 per cento su un 39 per cento di crescita di alphabet nel q3 2021 rispetto al q3 2020 quindi era molto difficile fare tanto meglio perché il dato del q3 2021 è dato da un anno eccezionale e questo è un problema comune a tante aziende soprattutto a quelle tech tipo amazon apple o anche meta inoltre l'effetto super dollaro ha inciso molto infatti senza l'effetto cambio la crescita delle revenue sarebbe stata a doppia cifra dell'11 per cento e questo è un altro problema che ha afflitto tante aziende americane molto internazionalizzate sempre come meta e sempre come meta che anche opera nel settore della pubblicità online questo rallentamento dell'incremento delle revenue è dovuto al contesto anche macroeconomico dove l'incertezza per il futuro l'incremento generalizzato dei costi ha spinto molte aziende a spendere meno budget in pubblicità la pubblicità da google search ha tenuto botta però a differenza di quella sui social di meta perché come sottolinea anche il CEO di alphabet la pubblicità da motore di ricerca le google ads per intenderci sono più misurabili e danno un rendimento migliore rispetto alla pubblicità sui social che sono sicuramente più inefficienti e quindi le aziende preferiscono tagliare prima quelle infatti i ricavi da pubblicità su youtube sono calati perché è un tipo di pubblicità molto più simile a quello dei social di meta e proprio come i social di meta anche youtube sta subendo il problema della minore possibilità di monetizzazione dei contenuti brevi i cosiddetti short che meta chiama reels gli short stanno conquistando una percentuale di watch time sempre più grande su youtube e quindi anche le entrate pubblicitarie ne risentono youtube ha detto che sta correndo ai ripari aumentando la monetizzazione degli short io personalmente ho notato che sto iniziando a guadagnare qualcosa sugli short ma al momento sono pochi centesimi non mi pago nemmeno un caffè per uno short il business di google network anche è in calo che sarebbero i banner pubblicitari che vi appaiono nei siti o sulle app e questo calo è dovuto a una minore spesa degli insenzionisti per le ragioni che abbiamo detto prima ma anche per il boom dei giochi sul play store che esisteva nel 2020 2021 a causa della pandemia che però adesso si è esaurito andiamo adesso al cloud che è il business più in crescita di alphabet con uno spettacolare più 38 per cento infatti alphabet ha dichiarato che il cloud è la priorità dell'azienda e quindi continueranno ad investirci molto infatti non è ancora approfittevole come business per via degli investimenti necessari per farlo crescere perché vanno comprati i server ma non solo prima di comprare i server vanno comprati i terreni poi costruito l'immobile che conterrà questi server e man mano che si vuole aumentare la capacità di storage bisogna comprare altri server e poi comprare server sempre più aggiornati e poi bisogna investire nei sistemi di raffreddamento di questi server e poi bisogna mettere in conto tutta l'energia elettrica che andranno a consumare e ovviamente anche il costo degli ingegneri quindi quello del cloud è all'inizio un business molto capital intensive che però raggiunto una massa critica di utenti si generano economie di scala e il business può diventare molto profittevole basta vedere che il cloud di amazon è quello che tiene in piedi i profitti dell'azienda perché fosse per l'e-commerce sarebbero in perdita secca comunque il cloud di google conta già più di 8 milioni di utenti in business che poi sono quelli che fanno il grosso delle entrate ed è un dato previsto in grossa crescita quello che ha fatto scendere i prezzi dopo la trimestrale però sono stati i profitti in calo a causa dell'aumento del 13 per cento del costo delle vendite e il principale fattore che ha causato questo aumento sono state le spese per i data center e secondariamente i costi di hardware per la linea pixel poi ovviamente ci sono stati anche aumenti di costi ricerche sviluppo sales e marketing la storia degli aumenti delle spese in data center è molto simile a quella di meta perché anche questi investimenti di alphabet sono principalmente finalizzati al miglioramento dell'intelligenza artificiale che ha la capacità di capire quali contenuti far vedere a ciascun cliente quindi migliorare il tempo di permanenza sulle piattaforme fagli vedere cose che gli interessano di più e quindi prendere anche più efficaci le campagne pubblicitarie degli insenzionisti perché hanno così un pubblico meglio profilato ed infatti anche gli investimenti in capex proprio come successo a meta sono aumentati tantissimo per andare a costruire queste infrastrutture necessarie per l'intelligenza artificiale quindi c'è questo problema dell'aumento dei costi e come sta rispondendo alphabet innanzitutto riducendo il tasso di crescita del personale che sta aumentando davvero tanto per supportare tutti i progetti in corso e quindi taglieranno i progetti meno redditizi e per quanto riguarda invece il problema dei video short che vanno alla grande ma non portano ricavi o ne portano pochi come detto aumenteranno la monetizzazione su questi tipo di contenuti brevi quindi aspettatevi di vedere prossimamente come succede sui reels di meta qualche banner pubblicitario in fondo ai video short oppure uno short sponsorizzato dopo un tot di video visualizzati e comunque anche se youtube ha perso leggermente ricavi sta andando comunque alla grande pensate che secondo i dati nielsen nel mese di settembre youtube è stata per la prima volta il leader nel tv streaming a livello di visualizzazioni negli stati uniti e questo dato può solo crescere perché nielsen ha evidenziato come lo streaming sta togliendo sempre di più share alla tv tradizionale allora vi dico la mia su questa trimestrale non riesco a spiegarmi la reazione negativa del mercato è il solito mercato secondo me miope che non riesce a vedere oltre i 3-6 mesi il problema è che come sempre gli investitori hanno aspettative non ragionevoli vorrebbero che un'azienda crescesse sempre e costantemente con una crescita sempre molto prevedibile senza mai un momento di defiance ma nella realtà non può succedere questo c'è un periodo dove un'azienda cresce in maniera anche costante magari però poi arriva prima o poi quel periodo dove cresce di meno o non cresce assolutamente e deve ottimizzare il business deve riassettarsi deve innovarsi per poi riprendere a crescere quindi a questi prezzi per me alfabet mi sembra un buon affare anche perché questo calo del prezzo non è giustificato perché parliamo di un'azienda che negli ultimi 10 anni ha aumentato il free cash flow mediamente del 20% all'anno sia che guardiamo gli ultimi 10 anni come periodo sia che guardiamo gli ultimi 5 quindi cresce in modo costante se per assurdo per i prossimi 10 anni crescesse della metà del 10% all'anno in media sarebbe comunque un ottimo affare quindi secondo me alfabet è un buy ma non è che dobbiamo comprare per forza tutti i buy dipende anche molto dalla vostra strategia bisogna guardare secondo me anche le altre alternative sui mercati soprattutto se abbiamo un budget limitato da poter investire quindi devo capire questi soldi dove possono rendere di più a me comunque alfabet piacerebbe aggiungere al mio portafoglio una volta completata la mia posizione in meta che quindi spero scenda ancora come prezzo meta perché meta la considero schifosamente sottovalutata meta è un'azienda che negli ultimi cinque anni ha aumentato il free cash flow del 27,5 per cento in media all'anno se dovesse crescere nei prossimi dieci anni più lentamente di come sono cresciute negli ultimi dieci aziende ormai mature in settori molto maturi come AT&T, ENI, Ford eccetera quindi mettiamo che se dovesse crescere solo del 5 per cento per i prossimi dieci anni sarebbe comunque da comprare anche in questo scenario così pessimista quindi visto che non ho soldi limitati vorrei prima comprare un altro po' di meta e spero che continui a scendere e poi se ho la fortuna che il mercato non si sia ancora ripreso e alfabet è ancora a questi ottimi prezzi penso che prenderò anche alfabet ma poi fatemi sapere cosa ne pensate di alfabet a questi prezzi scrivete nei commenti un bel like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da davide